I vostri utenti, i vostri studenti devono tornare tantissimo sull'app. Non comunicano nel modo più corretto per favorire proprio la collaborazione e la condivisione tra loro. Quale sarebbe il vostro impatto sociale? Che così a una prima lettura uno stenti a capire... Non è banale capirlo. Nella vostra rada di valutazione l'impatto sociale è molto basso, che secondo me dovrebbe essere il contrario. Dobbiamo essere più bravi a esprimerlo. Sono due business abbastanza di nicchia. Questi sono forse un po' meglio come team, l'altro un po' meglio come business. Come portavoce di Beerus vi dico che va in finale... Makers. Complimenti, è stata una scelta molto sofferta. Li ho convinti, sì. Vedremo tra un anno che ragiono. Grazie.